Napoli si candida a ospitare nel 2026 i mondiali di Schirollo, lo sci sulle rotelle, che sta avendo un grande successo in tutto il mondo. Lo ha annunciato a margine della riunione della consulta nazionale della Fisi il presidente Flavio Roda. Sì, in effetti lo Schirollo è una delle nostre discipline e della disciplina che è più vicino al territorio diciamo cittadino. Quindi so che qui è stata fatta una bellissima manifestazione sul lungomare e abbiamo intenzione nei prossimi anni di portare un evento a livello internazionale. Quindi sicuramente se è possibile una coppa del mondo proprio per far vivere questo ambiente. L'incontro è stato organizzato in un hotel del lungomare dal comitato regionale campano pugliese presieduto da Antonio Barulli che ha confermato quanto Napoli si è interessata a ospitare questo evento. Dopo aver fatto due manifestazioni sul lungomare caracciolo di grande interesse abbiamo proposto e devo dire che il presidente si è subito reso disponibile per fare una gara internazionale sul lungomare. Napoli capitale dello sci italiano per un giorno dunque ma anche comitato capace di sfornare giovani talenti come riconosciuto dal presidente Roda. La federazione è anche a Napoli. Direi che in particolar modo questo comitato, il comitato campano, è un comitato molto importante per la federazione. Anche perché negli ultimi anni ha avuto una grande crescita a livello giovanile quindi con dei risultati veramente impensabili. Oltre 1500 ragazzi con campioni italiani nelle varie categorie che si stanno anche nelle categorie dell'alta prestazione e si stanno dimostrando molto validi. La riunione si è aperta con il ricordo di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice scomparsa tragicamente il 29 ottobre a causa di una caduta durante l'allenamento.